Presidente, vaccinazioni obbligatorie, un tema attuale che ha provocato anche qualche polemica però. Infatti il senso della iniziativa organizzata questa sera dall'Associazione Qualità della Vita è quella di fare informazioni e di dare giuste informazioni ai cittadini su questo che è un tema strettamente connesso e collegato alla qualità della vita non solo dei nostri figli ma anche dei nostri nipoti. Noi siamo assolutamente favorevoli alle vaccinazioni obbligatorie ma lo siamo perché questa sera, ce ne darà conferma il dottor Conoscitore, ormai gli scienziati hanno parlato in maniera chiara. Dibattiti che si tengono altrove e quindi penso a quelli di carattere politico, quelli che si consumano sui social network dove vi sono tifoserie l'una contro l'altra armate non ci interessano perché si sta parlando della salute dei nostri figli e dei nostri nipoti sulla quale non ci può essere interpretazione di chi non è addetto ai lavori. Bisogna parlare per atti e lo devono fare i medici i quali finora ci hanno detto che le vaccinazioni devono essere eseguite. D'altronde se noi molte malattie, faccio un esempio su tutti, la poliomelite, non ne sentiamo più parlare, ce ne sono pochissimi casi nel mondo, non è certamente merito di nessun altro, sono delle vaccinazioni che sono state fatte nel passato. Ma comunque nel rispetto delle opinioni di tutti questa sera sarà data la possibilità parlando con i medici di dare ovviamente la propria interpretazione e di eseguire ciò che la norma prevede.